Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Periferie, mercoledì 13 novembre, si parli di periferie ovviamente e quindi consulta Periferie Milano. Walter Cherubini buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati alla centonovantesima puntata di Focus Periferie, quindi arriveremo a 200 e sarà anche interessante ricapitolare un pochettino tutta questa lunga traiettoria, e soprattutto alla luce anche di tantissimi ospiti che abbiamo incontrato e che ci hanno raccontato la loro esperienza e attraverso quella loro lente abbiamo letto la Periferia milanese, quindi potrà essere anche un'occasione di riferimento. Oggi che lente usiamo allora? Oggi usiamo una lente che è particolare ma credo che sia decisiva dal punto di vista del nostro slogan che dice i milanesi non conoscono Milano. Abbiamo qui Cristiano Rosa che è presidente della fondazione Carlo Perini che ha sede nella zona diciamo così Vialba a Quartogiaro e qual è la caratteristica? La caratteristica è che loro come ha rammentato un attuale direttore appunto di un dipartimento del Politecnico Riboldazzi fa ma io da giovane ero venuto per fare degli studi, delle ricerche. Allora la fondazione. Ecco la fondazione Perini ha un deposito enorme di conoscenze ma anche attuali a quelle che poi approfondiremo oggi che sono disponibili per la città. Quindi da questo punto di vista tra l'altro è stato riconosciuto anche nei tempi l'Ambrogino eccetera la fondazione Perini rispetto alla cittadinanza ha una responsabilità che noi dobbiamo aiutare appunto a svolgere perché siamo abbastanza convinti che non sapere le cose che ha fatto la fondazione Perini e cioè tutta una serie di documentazioni studi sia un pochettino un di meno per ciascuno nei vari ruoli un presidente di associazione un sindaco un presidente di municipio che conoscendo, mettendo un po' a fattor comune e leggendo quello che ha fatto la fondazione Perini sia utile per il proprio svolgimento di attività. Questa utilità ormai è palese ma soprattutto come è nata per la fondazione? Che cosa ha fatto la fondazione e questo patrimonio? Cos'è questo patrimonio che possiamo aiutare anche magari a diffondere? Intanto grazie Walter, grazie Fabio e un saluto a tutti gli amici di Milano All News La fondazione Perini ha una lunghissima storia nella città di Milano siamo nati nello storico quartiere di Via Alba Quartogiaro, la periferia per antonomasia se vogliamo, era il 1962 quindi quest'anno facciamo i 62 anni di storia una fondazione nata come circolo culturale con la prerogativa di decentrare la cultura l'oggetto della nostra mission in quegli anni era soprattutto di portare la cultura nelle periferie perché non poteva essere una prerogativa soltanto dei salotti della Milano del centro e quindi è stata una sfida quella di portare in uno dei contesti più difficili sotto il profilo socioculturale portare eventi, iniziative di qualità come mostre, conferenze, dibattiti, concerti che hanno fatto di Quartogiaro il centro della cultura milanese addirittura negli anni 60 perché se si pensa a quello che era a Quartogiaro in quegli anni un quartiere fatto di proletariato, sotto proletariato urbano nessuno poteva pensare che gente del calibro di Pierpaolo Pasolini o per fare nomi magari meno famosi a livello nazionale ma soprattutto a livello locale anche Carlo Castellaneta, Camilla Cederna, i preti operai e tantissimi altri personaggi che sono passati tra gli anni 60 e gli anni 70 ma anche tutt'oggi comunque alla nostra fondazione nessuno avrebbe potuto pensare che un circolo culturale di periferia dell'estrema periferia nord-ovest di Milano potesse diventare uno dei baluardi della cultura milanese invece dopo 60 anni di storia siamo ancora qui quindi vuol dire che tutti i sacrifici che sono stati fatti hanno portato i suoi frutti i suoi frutti che poi hanno tradotto questo anche come diceva Walter in un punto di riferimento per la città, per i cittadini ma anche per gli studiosi, studenti delle scuole superiori ma anche studenti universitari ha citato prima Walter un professore universitario ecco allora era uno studente che veniva a fare dei lavori di ricerca alla fondazione al circolo Perini adesso succede ancora con gli studenti del Politecnico piuttosto che della Cattolica e quindi magari fra 20 anni saranno loro i nuovi insegnanti e avranno le regie e quindi possiamo dire che in qualche modo abbiamo contribuito anche noi questo nostro patrimonio poi si è tradotto in un riconoscimento da parte della soprintendenza dei beni archivistici della Lombardia che ha riconosciuto il nostro archivio di importanza storica particolarmente significativo quindi c'è proprio un attestato, un riconoscimento che ha attribuito al nostro archivio un ruolo fondamentale nel contesto della città di Milano inerente allo sviluppo delle periferie urbane perché insomma è fondamentale qui sembra che stiamo facendo una operazione nostalgia ma non è per niente così questi archivi sono fondamentali per capire la città di oggi e soprattutto qua di domani Walter anche perché il lavoro che ha fatto la fondazione Perini è attuale nel senso che va bene c'è l'archivio partito dagli anni 60 e quant'altro uno dice va bene faccio lo storico, vedo l'evoluzione ci sono degli strumenti operativi che sono attuali sono fatti per l'oggi infatti da dove vengono fuori all'insegna quello che diciamo i milanesi non conoscono Milano allora noi crediamo che il lavoro che è stato tra l'altro presentato ieri sera a Palazzo Marino nell'ambito promosso dal Tavolo Periferie Milano ospitato e partecipato dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Milano ha individuato il Tavolo Periferie Milano un percorso periferia policentrica perché se noi non vogliamo avere altri cento anni di periferie urbane che sono nate nel 1923 e quindi riparlare fra cento anni ancora ma ci sono le periferie dobbiamo anche capire qual è la contestualizzazione di quali sono gli aspetti della periferia la periferia ha sostanzialmente due aspetti a livello mondiale delle grandi città quindi stiamo parlando di periferie urbane non sociali, esistenziali alcune volte si sovrappongono ma teniamo distinte le cose c'è un problema di carattere amministrativo e cioè come cento anni fa i comuni all'ora di Baggio piuttosto che Niguarda piuttosto che Musocco furono aggregati a Milano e l'amministrazione locale che aveva come cura quei territori lì è stata cancellata e da lì nascono le periferie una delle caratteristiche appunto è quella di non avere una organizzazione amministrativa adeguata è stata cancellata più inadeguata di così in secondo luogo è l'aspetto di avere una identità culturale è qui che si innesca anche il lavoro interessante della Fondazione Perini in questi non accademica ma sul campo se possiamo dire anche più campo di il presidente lo storico presidente Antonio Iosa venne con una brutta diciamo così dizione gambizzato dalle Brigate Rosse nel 1980 quindi più carne di così non si può e ha avuto anche più di 30 operazioni tra l'altro quindi è un vivere sul territorio perché uno dice ah c'hai la documentazione storica sì biblioteche no questi sono frutti proprio della carne vissuta sul territorio allora in tal senso crediamo che appunto la Fondazione Perini abbia una grossa responsabilità sulla città proprio anche con gli ultimi lavori fatti vorrei magari c'è fatto qualcosa facciamo vedere sì 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 come diceva vi faccio vedere anch'io abbiamo anche poi le copertine e noi dobbiamo anche aiutarla a svolgere questa responsabilità perché è una responsabilità cittadina che è per tutti noi che cos'è allora questa è l'ultima pubblicazione del quaderno bianco il quaderno bianco è una collana che narra la storia della città in maniera molto particolare che è stata concepita addirittura negli anni 80 la prima pubblicazione è del 1984 che quando le circoscrizioni erano 20 quindi invece adesso sono 9 per cui per ogni circoscrizione veniva fatto questo quaderno bianco ed era una raccolta è stato concepito e quindi anche adesso stiamo cercando di seguire un po' quel filone però con tutti gli ammodernamenti chiaramente del caso perché poi sono passati anche 40 anni da allora questo è l'ultimo questo qui è l'ultimo che è uscito l'anno scorso e adesso quest'anno stiamo lavorando sul quaderno bianco del municipio 1 ma il concept che sta dietro i quaderni bianchi è quello di dare una radiografia a 360 gradi del territorio quindi una radiografia che parte dagli aspetti demografici della popolazione gli aspetti sociali gli aspetti dei servizi gli aspetti urbanistici di rigenerazione urbana per concludere anche quelle che sono le criticità legate agli aspetti della legalità quindi un concept che affronta le dinamiche di questo territorio anche sotto il profilo della memoria storica come strumento per combattere la legalità perché noi sappiamo che la memoria storica dei nostri quartieri noi stessi cittadini non la conosciamo quindi figuriamoci chi arriva ai nuovi cittadini italiani stranieri quindi non sono gli stranieri ma soprattutto gli italiani sono i primi a non conoscere magari la memoria storica del loro quartiere perché i nostri quartieri vediamo in continua trasformazione con questi interventi soprattutto negli ultimi anni ci sono tantissimi interventi di rigenerazione urbana per cui per gettare le basi di coesione sociale e di legalità noi puntiamo molto anche sulla sulla memoria storica nel 2014 abbiamo visto adesso passare le copertine di tutti i municipi i quaderni bianchi dei municipi praticamente tutta la città quasi mappata la cosa interessante è che non è appunto solo è pure una radiografia quindi fa vedere se l'osso si è rotto in passato ma anche come sta adesso l'osso giusto? allora a Milano c'è tutto è anche un po' il contrario di tutto infatti si dice si va a una velocità due velocità ma forse anche quattro cinque velocità c'è un pochettino di tutto allora l'aspetto che è interessante è che rispetto appunto a progetti validissimi sperimentazioni validissime buone pratiche validissime tutto questo bagaglio che c'è nella città non diventa bagaglio cittadino quindi ciascuno continua ed è meglio che continui a farlo naturalmente a coltivare il proprio orto però non si tiene conto della dinamica complessiva qual è il valore aggiunto della fondazione Perini in questo caso è che non ha focalizzato un quartiere analizzandolo con tutti gli aspetti che diceva Cristianiosa ma ha fatto un percorso su tutta la città appunto che addirittura il titolo di questo di questo percorso è periferie urbane trincee di legalità e giustizia ecco questo qui era la partenza poi si chiude nel municipio 1 che dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa non è propriamente periferia potrà avere magari delle zone di degrado delle zone problematiche ma centro e periferia dal punto di vista tecnico sono due cose completamente distinte infatti diceva Iosa ieri nella presentazione a Palazzo Marino che l'approccio che era stato dato sugli otto municipi periferici rispetto a quello del municipio centrale hanno dovuto ricalibrare le cose ma è evidente che è differente perché Piazza del Duomo la conosciamo tutti dal primo turista che viene all'ultimo immigrato che è venuto Piazza del Duomo la conosciamo tutti e se cominciamo a dire la Bazzia di Chiaravalle la Certosa di Milano Certosa di Milano dove passiamo tutti i giorni non la conosce nessuno ecco allora con i quaderni bianchi che sono circa 300 pagine di lavoro di studio di messa a fattore comune per ciascun municipio e quindi sono più di 2000 pagine si è fatta una radiografia della città perché il tema è quello di avere una visione puntuale delle cose ma anche nella loro articolazione complessiva perché altrimenti è chiaro che la città andrà a tantissime velocità perché se una non conosce l'altra parte della città ognuno va e chi ce la fa ce la fa e chi non ce la fa vedremo che cosa accadrà ecco questo qui è un pochettino il quadro quindi dicevamo della responsabilità con c'è stata questa presentazione a Palazzo Marino di questo percorso nell'ambito di questa presentazione il percorso periferia policentrica dove l'invito è e la disponibilità anche della Fondazione Perini è quella di fare un percorso di presentazioni di questi libri che verrà fatto nel 2025 probabilmente un percorso all'interno della Fondazione Perini appunto a Via Alba e anche la disponibilità con i municipi con le associazioni anzi è un'occasione proprio per chi opera nelle istituzioni chi opera nelle associazioni in particolare ma anche per le scuole di avere un'occasione di approfondimento comune della città poi ognuno la pensa come vuole però avere degli elementi oggettivi di considerazione vale la pena ecco perché ci teniamo a evidenziare questo tipo di lavoro che è un lavoro significativo ma serve per la città chi non si legge questi libri avrà un di meno poi vivrà lo stesso ma avrà sicuramente un di meno se si vuole interessare della città e delle sue periferie mi stai dicendo che i milanesi potrebbero conoscere Milano quindi finalmente grazie a questi strumenti l'idea è quella tu hai l'idea che effettivamente noi milanesi poi Milano la conosciamo poco da quello che noi possiamo perché Milano non è fatta soltanto del Piazza Duomo come diceva Walter e delle zone semicentrali Milano è fatta di 12 antichi comuni perché io ci metto dentro anche Turro se vogliamo che sono stati aggregati fra il 1918 e il 1923 soprattutto gli 11 nel 1923 abbiamo festeggiato tra virgolette l'anno scorso il centenario degli antichi degli antichi comuni milanesi li abbiamo festeggiati si dicevo fra virgolette perché poi sappiamo qual è stato il destino di questi 12 antichi comuni terra di conquista di un'urbanizzazione sfrenata purtroppo e noi a noi piace molto portare le persone a far visitare queste queste zone che sono delle nostre periferie e quando noi portiamo le persone a quarto giaro a visitare Villa Scheiber piuttosto che a visitare la certosa di Garegnano piuttosto che a precotto a far visitare la chiesetta di Sant'Antonino in Segnano la prima volta che ci siamo incontrati siamo incontrati in strada a Greco perché tu avevate appena finito una visita e ci siamo incrociati proprio lì quindi mi ricordo questo questa immagine quindi noi facciamo e quando noi portiamo questi cittadini che addirittura noi non riusciamo a star dietro perché arrivano centinaia centinaia di richieste di prenotazione a un certo punto dobbiamo mettere un freno e quando arrivano a visitare la chiesetta di Sant'Antonino in Segnano piuttosto che una villa o anche un luogo di archeologia industriale perché noi cerchiamo di inserire un po' in maniera diversificata sia chiese che ville che edifici come anche l'archeologia industriale è un patrimonio nella nostra città parchi giardini pubblici in maniera molto eterogenea la gente rimane particolarmente soddisfatta e sorpresa noi abbiamo fatto anche delle iniziative con le scuole per i ragazzi perché chiaramente un conto un significato è quello di portare i cittadini ma ancora più valenza portare i ragazzi per fargli capire che quando devono crescere devono sapere che lì sotto quella strada passava una volta una roggia ad esempio oppure che quella chiesetta che ci passano tutti i giorni è una chiesetta che è una valenza storica molto importante di cui devono essere orgogli quindi l'orgoglio di appartenere alla comunità quindi coesione sociale quindi rispetto per il proprio quartiere queste sono le basi che noi cerchiamo di infondere soprattutto i giovani delle scuole e poi anche i cittadini delle nostre città anche magari se c'è rispetto c'è quell'altra parte che è la presa in cura la curare prendersi cura quello è fondamentale prendersi carico delle cose questo qui è il tema naturalmente se non conosci come fai a prendertene cura quindi è interessante il tema della permeabilità della città perché noi dal punto di vista statistico ci sono anche stati degli studi 100% della nostra diciamo così esistenza a parte dormire e quant'altro ma che cos'è che frequentiamo frequentiamo lì circa chi vive nelle grandi città una decina di luoghi pensiamo solamente che l'articolazione periferica di Milano è in 166 toponimi poi ne abbiamo 53 nel semicentro e 20 lì siamo un po' meno confidenti però una ventina nel centro quindi fanno 239 toponimi in cui è articolata la periferia urbana milanese se poi noi prendiamo anzi la città è 166 della periferia poi per capire anche come è importante conoscere il dettaglio se noi diciamo San Siro un conto è San Siro quartiere Ale San Siro piazzale Selinunte che ha una sua connotazione un conto è andare esattamente 100 metri più in là e quindi andare nella zona dell'ipodromo dell'abitazione dell'ipodromo due situazioni completamente diverse se tu dici San Siro e pensi di intervenire con la stessa maniera ben che vada ce ne azzecchi una ma molto probabilmente sbagli su tutte e due perché non è che fai la media del pollo allora questo è importante il dato conoscitivo e quindi anche imparare perché se non impariamo non conosciamo noi continueremo a vivere nel nostro 12 luoghi che fanno l'80% della nostra vita scuola lavoro qualche interesse amico frequentazioni particolari perché uno piace giocare gli scacchi piuttosto che fare dello sport e poi il resto non lo conosciamo allora favorire la permeabilità è un aspetto didattico per quello ci rivolgiamo alle scuole con la didattica sul campo in cui ci sono anche delle impostazioni sia internazionali ma anche con evidenze cittadine milanesi questo è il dato di fondo abbiamo prima conoscere la città loro dicevano appunto andare anche in giro fare queste passeggiate è una di quelle cose che ad esempio consulta periferi Milano fa spesso durante i weekend periferi altrimenti giusto allora ma l'iniziativa della fondazione Perini si intreccia esattamente in quello che abbiamo poi individuato nel 2020 in piena pandemia tra l'altro non mancano mai gli appuntamenti alla fondazione Perini perché esattamente perché una delle questioni era ma come facciamo a far conoscere le periferie e i singoli luoghi della periferia alla città e quindi consulta periferia Milano che ormai ha vent'anni di storia ne abbiamo fatte un po' di tutto di più anche se noi non è che siamo promotori di concerti però ne abbiamo promossi 850 per dire solamente un aspetto particolare allora nel pre-pandemia avevamo cercato di individuare una modalità mettendo a fattor comune le energie che ci sono nella città perché perché consulta periferia Milano ha lanciato l'ipotesi di lavoro ma se non fosse sorretta da in una maniera un po' varia da 48 realtà territoriali non avremmo sicuramente non saremmo raggiunto non avremmo raggiunto i 617 appuntamenti come li chiamiamo noi sopralluoghi accompagnati perché non sono visite guidate poi magari si infila anche qualche visita guidata ma sopralluoghi accompagnati che ti consentono di conoscere un luogo bello ma anche un luogo critico cioè la chiesetta di San Giorgio a Roserio l'ex istituto Marchiondi che è stato esposto al MoMA di New York il plastico e noi ce l'abbiamo abbandonato ed erelito in quel di Baggio ai margini dell'abitato di Baggio hanno la necessità di essere presi in carico curati e ridati a miglior vita per essere utilizzati dalla città e non per essere abusati da qualcuno ecco per cui questo quadro d'assieme ha dato vita alle giornate per i Fieri Artmi non ci sono le giornate FAI non vi preoccupate ci sono le giornate per i Fieri Artmi che possono integrare naturalmente il FAI ha tutta una sua grandezza la nostra è una dinamica diversa però appunto anche questo fine settimana 15-17 di novembre c'è un calendario di una ventina di appuntamenti che ci possono far conoscere la città sotto vari aspetti accolti da persone da realtà associative che sono sul luogo normalmente e quindi possono accompagnare conoscere la città nelle sue molteplicità può essere un'occasione un arricchimento ma anche un servizio alla città perché mettiamolo un po' aspetti ambivalenti mi arricchisco ma poi ho occasione anche per arricchire la città perché posso dirlo a un altro perché posso magari anche uno che è un professionista che ha determinati interessi dire guarda che c'è quella cosa lì ah non lo sapevo me ne prendo cura questo qui è il tema di fondo e allora se vogliamo invece siamo quasi in chiusura quindi se vogliamo approfondire invece la conoscenza non solo con Milano ma proprio con la Fondazione Perini come possiamo fare? Contattateci a infochioccio alla Fondazione Perini punto org e venite o a seguire le nostre iniziative anche attraverso il nostro sito www.fondazioneperini.org oppure se volete visitare la nostra biblioteca specializzata sulle periferie oppure il nostro archivio storico particolarmente importante come ha detto la soprintendenza vi aspettiamo prendete appuntamento e venite a trovarci se volete consultare i quaderni bianchi storici di Antonio Iosa o di Maria Antonietta che è l'autrice delle ultime edizioni del quaderno bianco vi aspettiamo e noi siamo poi a disposizione questo è un messaggio non solo ai cittadini ma anche alle associazioni siamo a disposizione di portare il quaderno bianco anche a livello istituzionale per fare delle presentazioni di conoscenza approfondita del territorio sia con le associazioni sia con le istituzioni locali perché il quaderno bianco vuole essere uno strumento anche di aggiornamento perché quando noi noi venendo dal municipio 8 cerchiamo di avere diciamo un'immagine a 360 gradi della città ma per fare questo abbiamo bisogno dei rapporti con le istituzioni con le associazioni dei cittadini quindi noi per fare i futuri aggiornamenti dei quaderni bianchi che stiamo già progettando abbiamo bisogno di questi nuovi rapporti di instaurare per capire anche da loro quali che sono le problematiche magari da inserire approfondire all'interno del prossimo quaderno bianco l'anno prossimo uscirà a breve quello del municipio 1 stiamo lavorando sull'aggiornamento del quaderno bianco del municipio 9 e quindi insomma dell'otto dobbiamo dobbiamo fare anche quello dell'otto e quindi abbiamo tanta carne al fuoco il lavoro non manca assolutamente grazie mille Cristiano grazie Fabio grazie anche a te noi ci vediamo la settimana prossima ci vediamo abbiamo superato 290 quindi siamo a posto siamo pronti verso il 200 grazie mille Walter Carubini un consulto periferie Milano grazie Cristiano Iosa della fondazione Carlo Perini grazie anche a voi che ci avete seguito noi ci sentiamo domani mattina alle 7 in diretta con Good Morning Milano e martedì mercoledì prossimo scusate mercoledì prossimo con Focus Periferie grazie mille arrivederci e a presto grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille